I carabinieri di Fano e Coglia al Metauro hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne che martedì mattina aveva appena consumato un furto all'interno di una casa sulla via Flaminia di Fano. Militari che sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un uomo sospetto allontanatosi dall'abitazione in questione. L'uomo è stato rintracciato e dopo una perquisizione nel suo furgone sono stati trovati diversi oggetti di antiquariato trafugati nella casa appena svaligiata. Tra questi un lampadario, tre candelabri, un'immagine sacra in ceramica e oggetti in ottone rame facente parte dell'arredamento della casa. Tutto materiale restituito subito al legittimo proprietario. La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso ai carabinieri di rinvenire un fucile rubato, un altro fucile monocanna da collezione, una baionetta da guerra, una catana e oltre 100 cartucce, tutto non regolarmente denunciato. In casa poi sono stati trovati altri materiali ritenuti di provenienza furtiva, un condizionatore ancora imballato, due orologi di valore, diversi soprammobile e due bancomat su cui si indaga circa l'eventuale utilizzo fraudolento. Trovata anche una bicicletta pieghevole risultata rubata all'unieuro di Fossombrone e una lambretta risultata rubata allo scorso marzo a Fenile. Il 58enne è stato dichiarato in arresto e condotto al carcere di Villa Fastigi dove risponderà di furto in abitazione, detenzione abusiva di armi e munizioni e omessa denuncia e recettazione.